Inaugura giovedì 7 ottobre sul lungomare Caracciolo l'edizione 2021 del Campus 3S, il grande ospedale da campo che garantirà ai cittadini e turisti la possibilità di effettuare visite gratuite e preventive. Dopo oltre un anno e mezzo scandito dalla pandemia che ha allontanato i cittadini dalla prevenzione, sostenere visite e check-up è quanto mai necessario. Medici dell'Università Federico II insieme a numerose strutture private e all'Associazione Farmacista insieme garantiranno la possibilità di visitare molte persone in tantissimi rami delle specialistiche come endocrinologia, senologia, nefrologia, ortopedia, dermatologia, gastroenterologia, cardiologia e tante altre. Deus ex macchina dell'iniziativa la professoressa Anna Maria Colau. L'anno scorso purtroppo, proprio all'ultimo minuto, abbiamo dovuto fermarci nostro malgrado, quindi è un segnale di speranza ed è un segnale di grande solidarietà a tutta la popolazione che adesso sta vivendo anche un po' una restrizione della possibilità di ricevere cure e diagnosi col sistema sanitario nazionale. Venerdì 8 ci sarà anche il camper del progetto SatWork, laboratorio mobile dotato di tecnologia SatCom e NavSat per la realizzazione di campagne di screening rapidi sul Covid-19, tantissimi gli eventi sportivi e culturali così come i testimonial che promuoveranno l'iniziativa come Maurizio De Giovanni. Se non abbiamo capito con questa pandemia l'assoluta importanza della prevenzione, se non abbiamo capito con questa pandemia quanto conti la salute e quanto sia atroce e sbagliato fare dei tagli indiscriminati al settore della sanità, allora vuol dire che siamo proprio teste dure e che ci meritiamo anche il male che ci viene. Il campus che vede da quest'anno come presidente Pasquale Riccio si concluderà domenica 10 ottobre con una passeggiata di due chilometri che percorrerà il lungomare cittadino. A parlarci delle iniziative sportive Tommaso Mandato. Più che qualche controllo in più diciamo siamo contenti di confermare questa storia che si era interrotta a causa Covid purtroppo due anni fa e di tornare sul lungomare. Quest'anno avremo oltre alle attività sportive avremo un ricco programma per quanto riguarda gli spettacoli. La grande novità di questo campus 2021 su Napoli è proprio la possibilità di assistere a una serie di spettacoli teatrali dove ci saranno tanti ai nostri testimonial fra Paolo Cagliazzo, Rosario De Cicco, Patrizio Liva, Monica Sarnelli, Francesca Maresca. Insomma ci sarà da divertirsi pensando sempre che l'obiettivo è quello primario di effettuare le visite mediche specialistiche completamente gratuite a disposizione della collettività.